Ciao a tutti ragazzi, sono io, che cazzo papyrus, e siamo tornati a cosa nuova che play, eh? Immortal, Immortal Kombat dicevo, Immortal Kombat Esatto sens! Ehi, che cazzo sens, a me spiegare? Ma te le mia sens! Vieni! Che cazzo sens, ancora? Ancora una volta! Ahhhh, i moriri, gli odio! Nooo, no 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 no, Sass, no! Perrezzo il drogo! Di qualcosa, siamo silenziosissimi! Ma mi hai fatto gli attacchi, Sass! Sass! Questo non era un attacco, non partito, scommetto! Sass! Sass, aspettate il drogo, SIIIIIIIII! Buoi, Sass! E scommetto che era un Nu mano senza affetta! bellissimo poi che ti spiace se devo fare una roba no è inutile e rimuolo quando l'hai fatto non so l'attacco devo guardarmi non so devo farlo muore ancora una volta non so non so neanche cosa fare non andrò finchè non ha avuto la mia maledetta pausa no non morirò sbacchia aiutami questo vuol dire odiarsi tra fratelli questo gioco non abbiamo la vicenza sb una cosa dove aspettatelo questo paradetto non portano le mosse gioco del cazzo non portano gli attacchi perchè non ti colpisce me ne vado me ne vado oh male questo qui non era cattivo no non era cattivo più che cattivo un brutto periodo ti aspetta no prima o poi cos'è stato non è il mio modo di scrivere indietro ss guarda che merda che è questo gioco non portano gli attacchi f*****ti sei morto bastardo gioco di merda soffri ss c'è trezza ti ha commentato cavolo quanto difficile parlare a volte ok siamo tornati e oggi ho scelto oh un tipo abbronzato un tipo ghiacciato ho preso la tosse è normalissimo col freddo di Snowden ok guardate che bello è sua cittocchiata in faccia è una macchina volta mi salta che cavolo sei nerd i tasti a caso funzionano perfettamente oh sei diventato un ghiacciolo cosa sta succedendo mi arrendo il personaggio giusto al momento è sbagliato maledizione ah no la mano qua sto parlando sto parlando non è successo questo gioco è un amicizia e sesso questo gioco rovina qualsiasi cosa però te lanza amicizia e trannazioni tutto distrutto distrugge muore persino le ossa dei personaggi ci saranno stancati ormai di prenderle prima o poi usciranno dello schermo e diranno basta penso resta a terra ancora no no maledetto che 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 è successo si muta tutta terra e fammi vincere ti farò vincere quando non mi riterai lo sai cosa è questo lo sai lo sai non fai questo che che diavolo che succede tutti i tasti che vedete gli sto premendo a caso sto cercando di che che sta succedendo quelli da dietro perché ci danno fuoco a vicenda sto sparmando non funzionerà per sempre no oh molto brutto come cosa oh cerca di colpirmi ora ho detto no e anche questa volta ti scongelo per rinchiacciarti di nuovo e per scongelarti ancora perché non va ma guarda guarda e te coltisco lo stento sesso si diventa un ghiacciolo come me no ha funzionato no adesso lo ridiventano ancora adesso scongela adesso diventa un ghiacciolo diventa un ghiacciolo oh non non funziona muore ancora a terra e piedi cattiveria si voleva prima o poi molto bene credo che parlerò io adesso si 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 a me si dovresti uccidermi non pensi ah 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 tutto in una giornata di lavoro è difficile parlare ragazzi jacks wins cavolo quanto è difficile ahahah ahahah siamo tornati ad essere Mr. L e i Chris vi ricordo che io Mr. L doppio e doppio Papairus stavo dicendo che io modo doppio i Chris sono quello che ha Scorpion che pesta tutti noo che cavolo ho perso io ho Mr. L e i Chris invece doppia sense come il mio nuovo allora ragazzi giusto perché lo sappiate ma adesso la fine visto che è il secondo che è di fila di sense e papairus che facciamo stavo per svenire beh allora vedevo che stava morrendo internamente si e infatti io ero lì che avevo detto ai Chris durante il periodo di pausa che ci siamo presi un attimo tra una partita e l'altra ti prego dopo che dopo aver finito la prima avevo detto ti prego i Chris dammi vincere posso sopportare perché era meglio di tre perché se vincevo ho vinto la prima se vincevo la seconda allora adesso metteramo subito altrimenti ci toccava andare avanti a lui ci toccava a me va bene però lui fammi vincere perché io una posso leggerla ma a due non posso leggerle beh non ha tutti i torti non posso andare oltre il mio limite infatti verso la fine avete visto che non riuscivo più a parlare alla fine era il resto io mi ero preoccupato perché vedevo che non parlava più che è successo qui prima mi accusavano di omicidio prima o poi ah cosa fa? ah la fornace da sotto è vero bella maledetto come si fa? infatti io di un minuto in periodo gli ho pausa e gli ho detto uccidimi ti prego maledetto stavo parlando e tu parli sempre dobbiamo così fare ah delle trasporto vabbè è figo si si è figo finchè non e no no non va è difficile colpirti stai sempre oh non va eh è troppo facile cosa? ma io vado in box di merda questo gioco lo so lo so è tutto normale tutto normale fidati ma le strade le hitbox tipo le hitbox sono tutte uguali solo che cambiano le texture dei personaggi si è vero cioè magari le hitbox si sono prefissate per essere adattate a un ciccione tipo al goro al goro al goro al goro al goro si giusto no 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 devo vincere una ledizione cavolo che culatone che culatone ma veramente non mi è mai successo questa roba qui allora non esulta perché ha la gola distrutta ed è meglio che non faccia nulla se non parlare normalmente come una persona normale vabbè vabbè cosa ho fatto sono diventato un ah bello bello adesso ho diventato eh vabbè però questa non te la sei meritata no me la sono meritata fin troppo visto quello che sto facendo con papai vi mettiamo anche gli intervalli e le prove che abbiamo fatto ok è una roba assurda beh sì tra il primo e il secondo c'è un degrado che ve lo metto alla fine di sto questo qua si è lui lui sa lui non si ricorda ma no mi ricordo quello quello la scopo dopo ti dopo ti spiego dopo ti spiego tanto lo scapiranno anche loro ti odio ti odio lo scapiranno anche loro tra poco no puoi usare i scudi cazzo ah cheee si va bene oh mi dio ti ho fatto tutto con Scorpion oddio sono felicissimo di me stessa ragazzi scrivete complimenti ai misteri nei commenti perché lui Scorpion va beh che siamo stanchi non è la propria partita ma Scorpion lui lo sa usare benissimo cosa che io non sono in grado di cioè beh io spammo perché sono due mosse e quelle lì sono quelle lì che so quindi capite possiamo finirla qui prima che mi muori in casa finisci da qui oh ok no no finisco io se no tu muori grazie allora prima che ok ancora vi posso constatare che ancora vivo da da pochi parametri vitali comunque vi saluto anche da parte sua eeeh va a fare lo stile papyrus finisco lo stile papyrus ciao totti che ecco all'inizio questo è il nostro ok vediamo è attenzionato la fortuna e questo è proprio è attenzionato è attenzionato questo è giusti il tuo forwards Aspetta, il microfono è acceso, si sente? Ma va bene, lo metto in moto Anzi no, non posso Ok, ok, via, via, va Possiamo cominciare? Va bene